Nessuno che legga queste righe si aspetterà che io possa descrivere l'orrore che pervase la mia anima a questa terribile visione. Intendo che mentre era un sogno ero immerso in quell'orrore, ma non è possibile dire l'impressione che rimase nella mia mente quando mi destai e compresi che si trattava soltanto di un sogno. Purtroppo non avevo nessun principio religioso che quelli che l'educazione di mio padre mi aveva instillato erano svaniti dopo otto anni di ininterrotta vita licenziosa da marinaio e di costante conversazione coi compagni scapestrati e dissoluti come me. In quel periodo di tempo non ricordo di aver avuto un solo pensiero che si innalzasse a Dio o mi portasse a fare un esame di coscienza. Mi dominava del tutto un'assoluta indifferenza, lontana insieme dal desiderio del bene come dalla coscienza del male. E quindi ero ciò che di peggio, di più incallito nella colpa, di più privo di pensieri, si possa immaginare tra i nostri marinai. Basti ricordare che nel pericolo non avevo nessun sentimento di timor di Dio o nessuna gratitudine verso di Lui quando ne ero liberato. E' vero che quando toccai questa spiaggia e vidi sommersi i miei compagni e solo io salvo, venni colto da una specie di estasi e da un trasporto dell'anima, sentimenti che avrebbero potuto, con l'aiuto di Dio, condurmi fino alla gratitudine. Ma tutto finiva, come era cominciato, in una ebra gioia di essere vivo, senza riflettere sulla bontà della mano che mi aveva salvato e salvato me solo, mentre tutti gli altri erano stati distrutti. L'improvviso germogliare del grano, di cui ho fatto accenno nel mio diario, sulle prime produsse qualche piccolo effetto sul mio animo, suscitandovi sentimenti più alti, ma solo finché fui persuaso che si trattava di un evento miracoloso. Ma quando sparì questa convinzione, si dileguò anche il suo effetto, come ho già notato. Ma quando mi ammalai, e l'immagine della malattia e della morte mi si impresse davanti, e il mio spirito cominciò a deprimersi sotto l'effetto della dura sofferenza, la mia coscienza, così alla lungo sonnolenta, cominciò a svegliarsi. Cominciai a rimproverarmi di avere provocato la giustizia di Dio con la mia pervicace condotta perversa, e di essere adesso sottoposto ad angosce proporzionali alle mie colpe. Queste considerazioni mi oppressero il secondo e il terzo giorno della mia malattia, e nella violenza sia della febbre che dei rimorsi mi strapparono qualche brandello di preghiera. Ma non so dire se questi fossero espressioni solo del mio desiderio di guarire, o della mia fiducia nell'essere supremo. erano piuttosto le voci della paura e dell'angoscia. Mi tornarono alla mente i buoni consigli di mio padre e le sue predicazioni. Adesso, gridavo, le profezie di mio padre si sono avverate, la giustizia di Dio mi ha colpito, e non ho nessuno che mi aiuti o mi ascolti. Ho respinto la voce della provvidenza che mi aveva posto in una condizione nella quale avrei potuto essere felice ed agiato. Ho lasciato i miei genitori nel cordoglio provocato dalle mie follie. Adesso questo cordoglio ricade su di me, con le conseguenze delle mie avventure. Rifiutai la loro assistenza, il loro aiuto, che mi avrebbe guidato bene nel mondo. Ed ora devo lottare in mezzo a tribolazioni così grandi che la stessa natura fatica a torrerarle. «Sono privo di ogni aiuto, di ogni conforto, di ogni consiglio. Signore, aiutami Tu, perché sono abbandonato sopra la terra!» Esclamai, e fu la prima preghiera che avessi pronunciato dopo tanti anni, seppure la si può chiamare tale. Ma torniamo al mio diario. Cosa sono i mari e la terra che ho visitato in gran parte? Chi li ha fatti? Cosa sono io e tutte le altre creature, mansuete o selvagge, ragionevoli o irragionevoli? Chi ci ha fatti? Certo siamo figli di uno scuro potere che ha creato il cielo, la terra e il firmamento e il mare e l'aria. E chi è costui? E come logica conseguenza? Dio ha fatto tutto e da questo segue una conseguenza infinitamente più ampia. Se Dio ha fatto tutte queste cose è Lui ad ordinarle e guidarle, e tutto si riferisce a Lui. Perché chi ha potuto crearle deve certamente anche reggerle. E quindi nulla accade tra le sue opere che non rientri in Lui, che Egli non sappia. Se nulla accade fuori dal suo volere, proseguì tra me, Egli sa allora che io mi trovo qui, in questa infelice condizione. E se nulla accade al di fuori del suo volere, è stato Lui a volere che ciò mi accadesse. Non trovai argomenti che contrastassero questi ragionamenti, e mi colpì particolarmente l'idea che Dio avesse disposto e ordinato le vicende che mi avevano portato a questo punto. Se questo è il volere di Dio, pensai, perché Egli ha fatto ciò? Cosa ho fatto per essere trattato in questo modo? Ma una voce mi gridò dentro. Osi anche chiedere cosa hai fatto? Ripercorri la tua esistenza dissipata, e chiedi conto a te stesso. Domandati come mai non sei stato finora distrutto, annegato davanti al Lido di Yarmouf, ucciso nella battaglia contro il legno corsaro di Salè, divorato dalle bestie feroci dell'Africa, ucciso dalle onde come i tuoi compagni qui davanti, e non chiederti cosa hai fatto. Rimasi muto, spaventato da queste considerazioni, contro le quali non avrei saputo porre una sola parola. Il nostro corso di Dio, è stato un po' di Dio e il nostro corso di Dio, è stato un po' di Dio. Grazie a tutti